a tu per tu per parlare di attualità politica curiosità e sport a tu per tu per saperne di più un saluto dagli studi radio mondo e rieti in vetrina in via garibaldi per una nuova puntata di a tu per tu come sempre in diretta sia audio che video ed insieme a noi c'è raffaele pitoni della velino consulenza e bentornato grazie per luga buongiorno a tutti oggi parliamo di prevenzione prevenzione per quanto riguarda le aziende certo abbiamo vissuto degli ultimi giorni un po caotici dal punto di vista della prevenzione idrogeologica per quanto riguarda il nostro territorio ma noi chiaramente andremo a focalizzarci più nel piccolo che poi come diciamo sempre sono le imprese medio piccole quelle che sorreggono il territorio e quindi anche la nazione e su questo punto di vista la sicurezza è fondamentale per il benessere di chi lavora nelle imprese e la velino consulenza nasce per questo però come abbiamo fatto anche la scorsa volta ci siamo visti qui i nostri studi mi piacerebbe che tu presentassi ai nostri radio e video ascoltatori come nasce la velino consulenza e poi il perché c'è la canzone degli articolo 31 presentata a sanremo quest'anno che parla di un bel viaggio ormai possiamo definire anche il nostro davvero un bel viaggio un grande viaggio che mai sono quasi dieci anni l'anno prossimo compiamo dieci anni di attività la velino poi nasce nel 2018 ma io insieme ad antonio e poi con tutte quelle anime quegli attori protagonisti che oggi fanno parte della velino consulenze abbiamo costruito diciamo cerchiamo di costruire quel soggetto aziendale che possa sempre dare delle soluzioni sul mercato ai nostri clienti alle aziende che seguiamo questo perché non basta poi parlare di prevenzione come qualcosa di assestante ma bisogna capire nel pratico che cosa bisogna fare per fare prevenzione e i soggetti che la devono fare hanno la vita facile per mettere insieme tutti quei sistemi di prevenzione e protezione all'interno della loro azienda oppure non è così facile fare la prevenzione allora noi che contributo possiamo dare ai nostri clienti e è qui che diciamo poi ci spendiamo sulla base di questo concetto spendiamo il nostro tempo le nostre energie a cercare sempre quel qualcosa che possa far dire ai nostri clienti sono contento sono felice di fare la sicurezza di fare la privacy di fare determinate attività con la velino consulenze perché grazie a loro riesco a farla in modo smart riesco a farla avendo dei vantaggi dei vantaggi qualitativi dei vantaggi di tutela dei vantaggi organizzativi per la nostra azienda quindi anche economici chiaramente mentre raffaele parla che ci sta seguendo su rieti in vetrina può vedere delle immagini della squadra dell'avendo consulenza e poi di ciò di cui vi occupate perché l'avendo consulenze si occupa di sicurezza nei cantieri si occupa dell'antincendio del gdpr della privacy insomma il lavoro da fare è tanto e ricordiamo soprattutto che la prevenzione e quindi tutto lo studio e gli aggiornamenti sono obbligatori assolutamente sono obbligatori e mi fa piacere che ormai conosci praticamente tutto quello che che facciamo vedo peraltro nel video in sovraimpressione il nostro nuovo logo quindi mi piacerebbe spenderci due parole soprattutto per quello che è il significato di questo logo che cosa rappresenta questo velino consulenza ecosistilizzato rappresenta chiaramente quello che è il nostro fiume cioè un corso d'acqua il velino il velino che cosa significa un corso d'acqua quante volte ho incontrato delle persone sagge che mi dicevano devi sentirti come un corso d'acqua che fluttua e attraversa tutti gli ostacoli fino arrivare al suo obiettivo no che poi ogni corso d'acqua si sa in teoria arriva al mare ci auguriamo che ci arrivi sempre in un modo meno impattante insomma di quello che abbiamo purtroppo vissuto infatti spendo anche un piccolo augurio a tutte le persone che stanno vivendo il dramma nell'Emilia Romagna augurando sia a quelli che sono i nostri amici o clienti ma anche a tutte le persone che non conosciamo appunto dell'Emilia Romagna di tornare presto a una situazione di tranquillità sia sotto un punto di vista di vita esattamente quotidiana ma anche da un punto di vista lavorativo ecco sappiamo che in questo momento quello che è un grande polmone per l'Italia a livello industriale è messo in serie difficoltà quindi ci auguriamo veramente che i danni siano limitati a quello che abbiamo visto e che si possano risolvere presto immaginiamo qui la prevenzione quanto sia fondamentale è vero stiamo parlando di un di una macro area ma anche lì c'è prevenzione la prevenzione in sé sia nel grande che nel piccolo è importantissima perché prevenire come si dice meglio che curare no ma qui poi si apre un po' un altro filone un altro filone e ti faccio subito una domanda secca tra sanzione versus prevenzione puoi sapere quello che preferisco di più chiaramente la prevenzione prima di tutto perché il detto i detti non li hanno fatti perché i detti hanno quel contenuto di saggezza interiore che ogni anziano infatti c'ha sempre ragione no dice ma come fa questo io ho studiato sono laureato e questo mi dice due parole mi spiazza così mi butta giù è chiaro prevenire è meglio che curare si dice che evitare un infortunio significa risparmiare soldi si dice è così si dice basta risparmiare soldi può essere evitato può diciamo si possono dedicare quelle risorse che tu devi mettere per curare invece per sviluppare ok quindi è una questione di concetto e il concetto è meglio essere sanzionati quindi è meglio essere puniti o è meglio essere formati perché la formazione sappiamo è uno dei dei pilastri della prevenzione ok assolutamente è meglio essere formati che puniti questo ormai si insegna anche nelle scuole no se il bambino gli dici sempre no 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 o lo punisci sempre che bambino viene fuori se un bambino lo formi invece e sa gli fai capire le regole del gioco gli fai capire c'era un posso definirlo un mio mentore parlava in modo molto semplice e diceva se io ti faccio una domanda su un argomento che tu non sai la risposta è facile o è difficile se io ti faccio una domanda su un argomento che tu sai la risposta è difficile o facile e poi ti chiedeva puoi vincere la partita se non sai come giocarla quindi fare formazione ti mette nelle condizioni di abbassare il rischio quindi fare prevenzione è la stessa cosa oggi purtroppo viviamo un contesto dove il pubblico troppo spesso magari spende energie e tempo in altro no rispetto a quelle che sono magari delle materie fondamentali da affrontare questo non lo dico io chiunque apre un giornale magari legge di quello contro quell'altro non mi interessa il colore non mi interessa però poi magari passa in sordina il fatto che chiedo perché da ignorante chiedo il piano di dimensionamento fognario è adeguato alle necessità di oggi di questo momento storico ok la manutenzione che viene fatta è adeguata quindi chiedo tu stai dicendo che in una come dicevamo prima in una macro area anche queste attività rientrano nella prevenzione giusto assolutamente sì e devono essere messe al primo posto ok e lo stesso in una piccola o medio impresa perché poi se noi trasliamo il concetto è diciamo tu puoi essere una piccola impresa c'è gli stessi obblighi della grande quindi agli stessi obblighi di un'istituzione questi obblighi non sono anche messi a caso ma ti dicono guarda che c'è il rischio che accada questo quindi io parlo in senso generale anche perché i rischi sono uguali nel senso sia la piccola l'impresa che la grande certo il nostro compito come consulenti insieme ai datori di lavoro è fare in modo che i rischi diminuiscano come dico sempre uguale a zero non ci stanno mai altrimenti saremmo immortali ok questo non può essere ma d'altra parte invece se noi ci impegniamo nel ridurre il rischio quindi facciamo un esempio facciamo un corso antincendio facciamo una parte teorica dove diamo delle informazioni facciamo una parte pratica dove insegniamo realmente a usare lo strumento gli strumenti utili a smorzare un incendio riduciamo il rischio che in quell'azienda scoppia un incendio probabilmente sì anzi ti interrompo vado ancora più a monte non solo lo strumento sia teorico che pratico per spegnere un incendio ma per evitarlo proprio perché ad esempio come qui da noi l'elettricità c'è una prassi da seguire per evitare qualsiasi problema poi nel momento in cui dovesse accadere con tutti gli scongiuri dobbiamo anche avere gli strumenti per spengere l'eventuale incendio tant'è che il rischio incendio è collegato al rischio elettrico nelle qualsiasi struttura dove ci sono dei componenti elettrici o anche nelle cucine dove ci sono elettrodomestici cucine non solo ok noi dobbiamo verificare che l'impianto elettrico sia conforme alla normativa che non ci sia sovraccarico sulle prese che ci sia la messa a terra ok e tutta un'altra serie di cose quindi se tutto è positivo nel senso che non ci sono degli elementi fuori posto ok certamente andiamo ad abbassare però il rischio elettrico da cui può nascere il rischio incendio ok o diciamo un'altra il primo soccorso è una cosa che dovrebbero insegnare fin dalle scuole ok oggi molte persone anche anche in emilia romagna in generale quando succedono delle catastrofi naturali diciamo sanno cosa significa primo intervento primo soccorso ok e questo ci dà la possibilità di andare a limitare ulteriori danni oltre quelli che già ci sono perché sappiamo intervenire su una persona difficoltà difficoltà ok quindi formare è fondamentale sanzionare e basta non è buona cosa non è buona prassi in questo senso che cosa voglio dire che a livello generale dovremmo impegnarci un po di più per sviluppare quella che definiamo la cultura della sicurezza e la cultura della sicurezza vi dico la verità non si fa nemmeno con il grande corso di formazione fatto in pompa magna che la fa una volta ogni cinque anni e poi vi è lasciato nel dimenticatoio è normale io non ricordo cosa ho mangiato una settimana fa figuriamoci se posso ricordare un percorso formativo di 16 48 ore che ho fatto cinque anni fa quindi è evidente che quello che va fatto e questo noi ci impegniamo a fare verso i nostri clienti è dare sempre nozioni di sicurezza a piccole pillole e diventa importante ancora di più la formazione perché la formazione è un momento andiamo nel pratico che succede c'è un aula ci sono delle persone che parlano c'è un docente che parla solidamente a noi non piace la formazione meramente frontale ma anzi quello che cerchiamo sempre di fare date le informazioni è di far condividere ai lavoratori le loro esperienze questa me la volevo tenere per dopo però visto che ne stiamo parlando mi permetto di citare una collega che si chiama Letizia Pani l'altro giorno partecipato a un convegno sulla sostenibilità e lei insomma ha parlato ha fatto un intervento proprio con il cuore no e mi ha colpito questo lei che cosa ha detto cito testualmente ha detto la formazione rimette le persone insieme e restituisce la casa azienda oltre quella personale dove si torna a dormire la sera noi veniamo da un momento storico molto delicato dove ce ne succede una dietro l'altra non tra le ultime c'è stata la pandemia ok e la pandemia ha ribaltato un po una serie di certezze oggi l'essere umano in generale probabilmente su tutto il globo ha bisogno di ritrovare alcuni valori di riferimento che prima c'erano erano ben presenti in quella che possiamo definire una vita di collettività la pandemia ci ha abituato a stare soli a chiuderci dentro noi stessi a mentalizzare a visualizzare troppo e a sentire di meno no quello che è l'altro quindi a capire ma che hai bisogno tu che ho bisogno io che cosa possiamo costruire positivamente per il nostro futuro ok e la formazione diventa un momento dove le persone tornano a stare a contatto a stare insieme a staccarsi un attimo dal corri corri quotidiano e a condividere a condividere qualcosa che può essere utile a migliorargli la vita ok perché poi lo scopo di tutto questo non è non prendere la sanzione facciamo attenzione ok mi dicevano che i soldi nel mondo sono sempre gli stessi dipende dove li sposti no quindi non è quello il problema il problema è che possiamo avere diciamo indirizzare negativamente la nostra vita se ci succede qualcosa di irreparabile nel luogo di lavoro luogo di lavoro che ricordiamo a tutti rappresenta quel posto dove passiamo la gran parte della nostra vita certamente ok quindi fare formazione fare prevenzione diventa automaticamente fare qualità di vita e alcune di queste cose di cui stiamo parlando non è che servono poi solo sul posto di lavoro perché certamente se incontri un amico che gli va di traverso un chewing gum e sai fare la manovra di disostruzione chiaramente puoi salvargli la vita ok un amico in più un amico in meno mettilo e levalo secondo me può fare la differenza raffaele i contatti per chi volesse una vostra consulenza ma anche per tutte quelle imprese che stanno nascendo quindi come possono contattare a velino consulenza ci dovete venire a trovare ci dovete venire a trovare peraltro sempre riprendendo il logo di prima se avete fatto caso c'è una goccia che si stacca dal corso del fiume quella goccia è simbolica sta a significare prendi una goccia di questa acqua santa della valle santa prendila anche tu una di questa goccia così ti metti nelle condizioni insieme a noi di poter superare le avversità e lavorare nel modo migliore possibile per chi voglia contattarci può scrivere a infochiocciolavelinoconsulense.com contattarci anche telefonicamente a 0746 20 17 98 o sul 328 11 38 28 7 quindi ripetere anche lentamente e poi a vostra disposizione ripeto 328 11 38 28 7 oppure 0746 20 17 98 oppure infochiocciolavelinoconsulense.com ok abbiamo dato le coordinate e poi a fine puntata ricorderemo però voglio ricordare anche il nuovo settore avversità che offre quattro diverse nuove opportunità sempre legate alla prevenzione assolutamente quello che è il nostro lavoro quotidiano intanto grazie a tutto lo staff dell'Avelino Consulense perché ci consente davvero di cavalcare nuove opportunità che è evidente sono opportunità per noi perché in primis sono opportunità per i nostri clienti attuali o per quelli che che verranno intanto facciamo vedere ancora le immagini dell'Avelino Consulense mentre Raffaele Pitoni parla grazie grazie ci fa piacere uno staff bellissimo giovani giovani quindi amici che come tutti gli imprenditori oggi c'è una caratteristica no che tutti gli attori di un'azienda soffrono batti beccano ma superano gli ostacoli insieme brindano anche insieme si divertono anche insieme devo dire che questi aspetti li possiamo ritrovare anche all'interno del nostro staff per cui col cuore veramente grazie a tutti i ragazzi dell'Avelino quindi grazie a uno staff che funziona siamo nelle condizioni di mandare avanti quei settori come la sicurezza la formazione la privacy eccetera e di aggiungere ogni tanto qualche pillola chiaramente non siamo i tutologi quindi per quanto riguarda alcuni discorsi che adesso vi dico è evidente che andiamo a collaborare con dei soggetti esterni ma l'obiettivo nostro è quello di cercare di dare al cliente un pacchetto a tutto tondo che possa risolvergli ogni necessità per esempio cosa si lega alla privacy si lega la sicurezza informatica e ecco che tramite noi da oggi è possibile avere un check up gratuito sulla sicurezza informatica per cui ogni azienda può vedere come sta messa e eventualmente con i nostri partner andare a costruire un percorso di sicurezza informatica piuttosto la qualità una delle cose che si interseca alla sicurezza è la qualità non è che io ogni corso di formazione dico sempre che fare sicurezza fare prevenzione significa fare qualità e non non ci sbagliamo la qualità però è anche altro ci sono le certificazioni di qualità le consulenze per la qualità abbiamo fatto diciamo degli accordi con un broker che ha moltissimi enti di certificazione allo scopo di poter portare laddove necessario questo servizio ai nostri clienti ai migliori prezzi possibili sul mercato e anche questo non è poco noi dobbiamo lavorare sempre nella direzione di far fare ai nostri clienti quello che va fatto quello che necessita impattando il meno possibile da un punto di vista economico quindi anche questo è fondamentale quindi qualità prezzo qualità prezzo chiaramente chiaramente è ancor di più il discorso della tutela legale quanti problemi possono avere le aziende quindi anche in questo senso abbiamo una serie di partner con i quali è possibile fare la tutela legale a 360 gradi quindi i nostri clienti o quelli che verranno se ne hanno bisogno possono tramite noi approfittare dei migliori prezzi sul mercato quindi anche per avere la tutela legale ultima ma non ultima per importanza probabilmente visto il discorso che stiamo facendo la più importante è la formazione finanziaria allora prima parlavamo dei problemi no poco fa parlavo con un imprenditore con un nostro cliente mi ha raccontato che ma ringraziato in realtà perché perché sono un paio d'anni che sta con noi e veramente ha messo tutto a posto ogni punto e virgola e ha avuto un'ispezione in cantiere e non sono riusciti a trovare un modo di dire ma guarda mi volevano proprio fare la sanzione no tornando a sanzione versus prevenzione questa volta ha vinto la prevenzione perché non gli hanno potuto fare nessuna sanzione tante volte mi ha detto sembrava proprio che volessero essere punitivi dico ma no dai c'è tante brave persone all'interno degli indispettivi in modo di pare che è proprio a te diceva lo dovevi vedere no e non dico chiaramente chi è questo cliente perché siamo consulenti privacy ricordiamocelo ma ma raccontato che questa questa storia mi fa piacere no che che ci dici questo però in effetti chi lavora e oggi chi ha una piccola attività lavora 16 ore al giorno spesso nemmeno viene pagato lamenta alcune alcuni aspetti ok gli aspetti che lui si lamentava ma è possibile che qui a livello pubblico succede che piove un'ora e succede tutto questo casino quando a noi ci obbligano a fare questo a fare quello a fare quell'altro ti ho detto guarda tu non ti preoccupare che questi obblighi non servono perché se no prendi la sanzione questi obblighi servono per salvare la vita esattamente sono d'accordo in parte che un soggetto che spende chi chi ha la partita iva ciao a tutte le partite iva sa benissimo che noi paghiamo le tasse e le paghiamo anticipatamente ogni se è anche chi non ha la partita iva perché anche i dipendenti sulla busta paga ci stanno le tasse dentro e ogni 16 del mese quelle se le prendono se sono alzate le bollette alzate le bollette significa che al netto del costo della bolletta il 22 per cento in più che ci paghi sopra ce lo paghi quelle sono tasse ok allora questi soldi ma che che ci hanno fatto se non li hanno spesi qui nelle cose importanti domanda domanda perché quindi tante persone si arrabbiano di questo e noi dobbiamo spendere un sacco di soldi dico fermo tu sei fortunato perché sono fortunato perché intanto quello che tu spendi grazie al percorso che fai con l'avellino consulenza lo recuperi di inel perché ogni anno noi alle nostre aziende presentiamo la pratica per la riduzione del premio inel perché sono aziende virtuose certo relativamente alla sicurezza sul lavoro e alla formazione da una parte dall'altra c'è questo strumento appunto della formazione finanziata spendo due parole a riguardo cerco di non essere troppo tecnico però il concetto è questo ogni azienda paga per i propri dipendenti l'inps di questo inps lo 0 3 per cento ok va a finire in un calderone e si perde lì ma in realtà questo 0 3 per cento potrebbe essere ridato alle aziende per fare attività tra cui attività appunto formativa come è possibile riprendere questo 0 3 per cento iscrivendosi gratuitamente a un fondo interprofessionale ce ne sono diversi ma lo scopo qual è quello di riprendere questi soldi accantonati e finanziarci delle attività formative allora il problema potrebbe essere eh ma io ora carico a 2 3 mila euro quanto tempo ci vuole no chiaramente hanno ragione anche lì c'è un'azienda piccola ci hanno dieci anni magari per finanziarsi un corso quindi magari uno nemmeno ci fa attenzione fortunatamente invece ci sono alcuni fondi che non ragionano a quanto ti sei scansato nel tempo ma ogni anno ti consentono di partecipare a un bando per cui si fa un progetto se si vince questo bando si possono prendere molti soldi ogni anno per finanziare la formazione quindi questa è assolutamente una cosa molto buona opportunità molto buona ecco vedete le istituzioni e gli enti para istituzionali e qualche cosa di buono assolutamente lo fanno eh quindi anche se in alcuni casi la prevenzione viene meno sotto il punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro invece ci danno questa possibilità il problema è che non tutte le aziende sono a conoscenza di queste opportunità quindi eh a forse esiste l'averino consulenza arriviamo noi e cerchiamo cerchiamo di portare noi cerchiamo sempre di studiare le opportunità per i nostri clienti e di servirgliele nel modo migliore possibile questo mi auguro possa contribuire a dare un futuro di qualità a loro e a noi apro una piccolissima parentesi una sottolineatura la prevenzione eh la deve fare la deve rispettare sia l'imprenditore ma anche il lavoratore assolutamente perché se manca da una delle due parti chiaramente il problema può sorgere ugualmente quindi questo diciamo è una mia sottolineatura in generale eh prima di salutarci Raffaele Pitoni ci ricordi ancora una volta lentamente i contatti e dov'è la sede di velino consulenza e quindi chiunque voglia eh chiamarvi o contattarvi anche per delucidazioni lo può fare come? Ricordiamo 0746 20 17 98 328 11 38 287 info chiocciola velinoconsulenze.com concludo dicendo che eh la sicurezza non è appunto solo del datore di lavoro né delle sue tasche ma la sicurezza è la qualità della vita di tutte le persone che compongono l'azienda e di chi gli sta intorno e di chi gli sta intorno quindi anche di tutte le famiglie no? Di queste persone quindi poi mi aiuti a dire se tu esci dal lavoro e stai stressato che è un altro problema della sicurezza sul lavoro e quello stress lo riporti a casa il danno è per tutti ok quindi facciamo prevenzione facciamo sicurezza eh nei luoghi di lavoro eh rispettiamo la privacy e cerchiamo di costruire un mondo migliore e sostenibile sempre sulla sostenibilità ci dicevano la sostenibilità significa benessere per se stessi per gli altri e per il futuro grazie a tutti grazie a Raffaele Pitoni da Avelino Consulenze questa puntata la potrete rivedere sulle nostre pagine facebook Radio Mondo e Rieti in Vetrine e anche sui canali youtube quindi potrete riascoltare se vi siete persi qualche qualche passaggio grazie a tutti appuntamento con a tu per tu e alle prossime interviste a tu per tu per parlare di attualità politica curiosità e sport a tu per tu per saperne di più